Lauracci! Presente! Laurenti! Maestro, la stanno chiamando! Ma chi a me? E che a me? Laurenti! Ti spunta, la chiamano! Eh, prez presente! Eccolo! Quelli che ho chiamato domattina alle sette e tutti alla prova di volo, eh! Oh, ma quale prova di volo? Ma io c'ho paura, cio! Vabbè che è la prova di volo, su! Ammica, son tordo, io mi schianto! Scusi, ma guardi un po', Abbi, se c'è sta pure... Bonolis! Bonolis e un c'è! Un c'è! Un c'è! Da, pigliamoci un caffè! Vabbè, ma ti pare il momento, questo? E' crema e gusto! Ogni momento è quello giusto! Ah, capito! Proprio buono, Abba! Ehi! Oh, e quelli chi sono? I struttori di volo! Oh! Ehi! Bonolis, se ne elenco... Un c'è! Un c'è! E vedi, lì sta l'attesa! Un c'è! Eh, se un c'è, un c'è, no? Se un c'è! Un c'è! Ah!